Ha ripreso ad ardere l'incendio che da venerdì sta devastando un'area di 40 ettari della pineta di Bibione in provincia di Venezia, frequentata località balneare dell'Alto Adriatico ed ultima spiaggia del Veneto. Nell'arco di ore, giorni, i vigili del fuoco hanno ingaggiato una durissima lotta per avere a ragione delle fiamme che non si esclude potrebbero avere origine dolosa dopo il ritrovamento di una tannica in metallo semidistrutta dal calore. La prolungata siccità e le elevate temperature costituiscono le condizioni ideali per il propagarsi dell'incendio, nuova calamità che dopo la tragedia della marmolada ha visto nuovamente colpita una località, come si diceva, frequentata da un nutrito pubblico turistico che però nell'ultimo fine settimana si è notevolmente ridotto, parliamo ovviamente dei pendolari giornalieri, proprio a causa dei disagi provocati da questa nuova catastrofe più o meno naturale che sta contraddistinguendo la difficile estate Veneta e Triveneta 2022. L'area ha un grande valore anche dal punto di vista naturalistico e della biodiversità, come ha confermato il ritrovamento del cucciolo di un capriolo messo in salvo dal servizio regionale antincendio e dai volontari della protezione civile di San Michele al tagliamento nell'oasi al limite proprio della zona colpita. Onore ancora una volta al difficile lavoro di chi, soprattutto in questa rovente parte dell'anno, è impegnato nello spegnimento delle fiamme. Usiamo il plurale perché nella giornata di domenica altri due principi d'incendio prontamente bloccati si sono sviluppati sui Monti Lessini nel Veronese e sui Colli Euganei nel Padovano.